Francesco Zampano, grandissimo protagonista a Genova, partiamo dall'episodio Clou, mano o non mano? Guardate, come si è visto dall'azione, è stata un'azione veloce, l'ho presa, mi è picchiata sulla coscia, poi involontariamente mi è battuta sulla mano, ma visto che l'azione comunque era veloce, è stato un gesto istintivo, ma manco io me ne sono accorto, poi vedendo dopo, mentre dagli immagini, da alcune inangolazioni si vede che picco la coscia e mi rimbalza fuori l'appellone, mentre da altre immagini si vede che magari mi picca sulla coscia e poi mi becca la mano, ma ce l'ha involontariamente, quindi non penso manco che, ho sentito dire alcuni che ho fatto pure il gesto dell'ombrello per buttare fuori la palla, si diceva così a Genova, quindi tutti i colori, comunque niente, non è stato un gesto involontario, che manco io me ne sono reso conto. Parliamo di questa partita del Pescara nella tua Genova, nella tua regione, una partita particolare con tante emozioni, ancora una volta in 11 contro 9 non siete riusciti a vincere, ma avete comunque conquistato un punto importante, anche perché il gol è arrivato alla fine. Sì, sì, abbiamo provato la partita bene, abbiamo modificato qualcosina, abbiamo messo un po' davanti il mister, visto che loro comunque giocavano molto sulle fasce, abbiamo messo a marcare te per quel tlaxalt, così per limitare un po' le offensive loro, e poi ripartire di conseguenza. Abbiamo fatto un gran primo tempo, poi siamo entrati il secondo tempo non benissimo, infatti abbiamo preso i gol ed è un atteggiamento che doveva migliorare molto, poi niente, ho fatto l'1-0 e siamo riusciti a recuperare comunque la partita, comunque un punto sempre a Marassi è buono contro il Genova, quindi per comandata la partita potevamo magari... Grazie.